Davide, primo gol in Serie B, primo gol tra professionista, primo gol come me a Lentella e un gol tra l'altro dopo pochi secondi del tuo ingresso in campo. Sì, sono sicuramente contento del gol perché l'ho cercato, mi sono sempre impegnato in questo periodo, anche quando non giocavo, non trovavo spazio, sono contento del gol, però rimane l'amaro in bocca perché non abbiamo fatto la partita che volevamo e abbiamo perso, quindi il gol vale tanto per me ma non conta niente. Per il gol dovrei pagare sicuramente qualcosa da bere a Palermo perché ti hai messo un cioccolatino proprio da spingere in porta. Sì, tra l'altro scherzando, spesso io e lui mi dicono oggi ti faccio far gol qualche volta, quindi non è stato magari un caso che l'assist l'abbia fatto lui. Poi, come ti dico, gli pagherò da bere tutto quello che vuole, però non abbiamo portato a casa niente, quindi è un gol che purtroppo vale poco. Ecco, tanti errori un po' in tutte le zone del campo, forse questo è uno dei motivi di questa sconfitta. Sì, non siamo riusciti a fare la partita che volevamo perché sapevamo che loro sarebbero partiti aggressivi e che come noi avrebbero voluto portare a casa i tre punti perché questa partita sia per noi che per loro, per la classifica, contava tanto. Purtroppo per una cosa o per l'altra non siamo riusciti a metterla sui binari giusti e abbiamo perso. 29 punti ma anche molto rammarico in diverse circostanze, un buon bottino comunque per questo giorno di andata? Sì, anche se devo dirti la verità, se ce lo chiedi adesso è normale che ti diciamo di no perché oggi volevamo assolutamente portare a casa qualcosa perché ci eravamo prefissati l'obiettivo di girare a 30 punti e non ci siamo riusciti, quindi è vero che 29 punti sono sempre 29 punti, sei ottavo in classifica se non sbaglio insieme ad altre 3-4 squadre, però a 30 o 32 era tutta altra cosa, quindi è bene però bisogna fare di più. Per quanto ti riguarda, specialmente negli ultimi tempi, hai trovato spazio con continuità anche dall'inizio, quindi un segnale che il tuo lavoro sta pagando? Sì, di questo sono contento perché come ti dicevo prima ho sofferto quando non giocavo, magari andavo anche in tribuna, però nelle dinamiche di un gruppo queste cose ci stanno, poi io arrivo anche dalla Serie D, quindi è stato un salto importante, ci vuole tempo per ambientarsi, l'importante è che il gruppo rimanga unito, rimino tutti dalla stessa parte a prescindere da chi giochi e poi cerchiamo di ripartire dalla prossima, dalla prima di ritorno col piede giusto, non come abbiamo fatto stasera. Grazie.